Stava una tavola rialzata, è caduta la signora, è stato in ospedale tutta gessata. Noi quale giorno ci facciamo male tutti quanti? Solo l'ultimo episodio in ordine di tempo. Il grido d'allarme questa mattina arriva da Corso Umberto I a Torre del Greco, a quasi un anno dal crollo della palazzina e la successiva e necessaria chiusura della strada. Non stiamo in sicurezza, perché qua chissà quel giorno corrolla tutto, ma il Comune che fa? Fanno le feste dei quattro attari perché è necessario fare la festa dei quattro attari, a spendere tutti quei soldi, spendetelo vicino a questo palazzo che è necessario. Quando succedono questi fatti non vedi il sindico, non lo vedi, manda solo i suoi colleghi. Ah ma che stiamo scherzando? Io ho già stato quattro mesi andando a venire giù a Comune perché avevo tre disabili, io ho visto cose brutte che non me le dimenticherò mai. Mia mamma è peggiorata da questo fatto, a Piano è una parte, a Piano è una taberga, a Piano è una taberga, a Piano è una taberga, ma che scherziamo? A Corso Umberto c'è un quinto attare, il quinto attare della festa dei quattro attari che quest'anno finalmente viene ripristinata, ma è un messaggio provocatorio all'amministrazione comunale. Sì, perché il Comune ha speso tanti soldi per questa festa, questa strada qua è un anno che è chiusa, i negozianti è morti, tutta la zona è morta, noi abitiamo qua, la sera qua al parcheggio, è diventato un parcheggio, in caso di soccorso non sappiamo di chi sono le macchine, qua si deve fare una soluzione, prima possibile. Restano i disagi per cittadini e commercianti sul fronte della viabilità, della sicurezza, della pulizia, senza considerare il danno subito dagli esercenti commerciali. Una serie di problematiche che gli abitanti della zona hanno voluto eronicamente rappresentare con il bozzetto del quinto attare. Ci sentiamo abbandonati e il senso del messaggio provocatorio rivolto all'amministrazione comunale. Un po' di ironia. Un messaggio provocatorio. Sì, siamo stati abbandonati per un problema così decito, non nostro, giustamente è colpa di chissà chi, alla fine siamo noi che stiamo parlando le conseguenze. Chiusi come i topi, spazzatura, garage, topi, non ne parliamo. Lei è un residente qui? Sì, abito qui a pochi metri. Ma i disagi sono anche per i commercianti? Ah, non ne parliamo. Esco adesso proprio dal negozio, che sta chiuso come un topo. Negozi già piccoli, pochi, qua, e siamo stati ancora peggio, 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 abbandonati. Abbandonati. Si spera che si apre quanto prima quello che si dice, tra virgolette, però non lo sappiamo se è vero o meno. Cosa chiedete al comune necessità, responsabilità, di pensare anche a noi? Ormai è morta questa strada. Quali sono i disagi? Tutti quanti. Pure per passare di là, devi dare la precedenza. Noi diamo la colpa al sindaco, ma è la maggior amministratura che è tutto fermo, è tutto bloccato. Quest'anno lo sa che ci sarà il ritorno della festa dei quattro altari, quindi qui i residenti, i commercianti, vogliono dire qualcosa con questo messaggio? Che vogliono che si toglie questo fatto qua, che torna come prima. E poi sarebbe la migliore cosa non far circolare neanche le macchine qua, più tranquilli. Però è questo fatto che mettono le macchine sui marciapiedi, già in civile. Bisognerebbe fare tanto, ma perfino i vigili urbani non ci sono. E dove sono? Non lo so. Dietro privato del gatto a fare le multe. Secondo me li chiamano apposta, passa, fa la multa, ha la macchina, le due o tre macchine indicate e se ne va. Poi ci sono pure le persone che le preferiscono, le vanno a chiamare fino al posto di lavoro e gli fanno spostare le macchine. Chi figlia è chi figliastra. Poi se tu dici un attimo sta arrivando e non arrivi in tempo ti fanno la multa. I desidenti di Corso Umberto vogliono lanciare un messaggio al comune? Eh, fanno bene. Per me fanno benissimo. Un messaggio ironico, un messaggio provocatorio? No, è un messaggio provocatorio perché la festa è stata annullata per diversi anni. Quindi è giusto che rivenga questa festa, che rimettono questa festa. Però? E' a più presto possibile che tolgano questa imbalcatura perché è stata parecchio. Quali sono i disagi? I disagi della pizzeria chiusa che era il nostro mito, il disagio che non si può passare né con la macchina né con il motorino. Comunque ci sono parecchi disagi. Spero che il comune trova soldi, ricomincia piano piano di nuovo portare tutto in ordine e aprire la strada per noi cittadini. I disagi che la gente in ambulanza, un primo soccorso non può succedere, che catastrofi. E questo bozzetto del quinto altare, un messaggio provocatorio che lanciano i residenti? Sì, e dobbiamo ringraziare sempre alle autorità competenti che non fanno qualcosa per questo scandalo. Sarebbe l'ora di fare qualcosa, anche perché è fatiscente, sotto addirittura ci sono degli animali. Che animali? Dei topi, dei topoloni, me ne sono accorto anche qualche giorno fa. Quindi sarebbe l'ora invece di fare altre cose, di vedere come si possono utilizzare i soldi per aggiustare questa strada. Lei l'ha visto il bozzetto del quinto altare, questo messaggio provocatorio dei residenti? Sì, sì, hanno fatto bene. Invece di pensare ad altre cose, come dicevo, è meglio pensare alle cose più importanti. Non sta bene che facciamo una festa di quinto altare e stiamo chiusi qua. Quanto c'è? Non lo so se è congire nelle cose, però a me non piace fare una festa bella e poi qua sta tutto chiuso. Non lo so da chi dipende, da chi non dipende, dall'inguilire, dalle persone, dai proprietari, dal comune, io non lo so perché non sono una interessata. Però dispiace vedere questa cosa qua che poi ti devi fare una bella festa di qualche altare. Come dite? Lei ha il negozio qui a Corso Umberto. Come è cambiata la sua vita da un anno? Allora, è cambiato drasticamente la mia vita. Dopo di 24 anni che sto qua, ho pagato tutte le tasse comunali. Mi vorrei fare una domanda al sindaco. Questo qua ci sta la burocratia sotto, i giudici, le crostore. Non mi interessa. Non mi interessa neanche più quando lo tolgono. Solo una domanda al sindaco. Perché a Natale non ci è messo l'illuminare a Corso Umberto prima? Solo questo voglio chiedere al sindaco. Vorrei una risposta. Il sindaco, ecco qua, è un vigno di un commerciante. Sa cosa vuol dire essere commerciante? Sindaco, stiamo qua. Stiamo sempre qua. Questo bozzetto del quinto altare, ironicamente, cosa vuol significare? Che non ci fanno. Lo facciamo noi con la spazzatura. Ah, questo è. Quindi il bozzetto del quinto altare, la strada chiusa con la spazzatura? Certo, con tutti i residui. Vuole fare un appello? A chi lo fa l'appello? L'amministrazione non c'è. A fare l'appello non ti ascoltano. È inutile farlo.